Salve a tutti ragazzi, Marco Casario qui, benvenuti a questo nuovo video e ragazzi si è chiesto di bannare il trading sul mercato delle criptovalute e tutte le società che coinvolte nel mining negli Stati Uniti d'America quello che ieri doveva essere, che sembrava per tutti, almeno queste erano le speranze che avevo io dovesse sembrare una riunione tra i vari membri del Senato e persone di varia influenza nel tessuto e nel mercato economico finanziario degli Stati Uniti d'America si è praticamente trasformato in una caccia alle streghe e io voglio riportare, voglio che il video di oggi rimanga in rete, rimanga qui sul nostro canale perché tutti quanti secondo me dobbiamo riflettere su una questione ragazzi vi rendete conto che il futuro, come l'hanno definito, il futuro delle criptovalute perché così questo era il titolo di questo meeting che c'è stato ieri è stata una caccia alle streghe, sembrava una riunione medievale bandita per veramente, semplicemente tra di loro, tra questi big parlarsi per cercare di far capire quanto pericoloso fosse il mercato delle criptovalute c'è stato questo personaggio che, adesso mi sfugge il nome ma più volte si era espresso, me lo ricordo io tra le copertine dei giornali più volte si era espresso in maniera estremamente negativa sulle criptovalute bene, che non faceva altro che continuare a dire che bitcoin e le criptovalute sono utilizzate da comprare armi illegalmente, da chi spaccia droga e che quindi fa parte della criminalità ragazzi vi rendete conto in che mani siamo affidati stiamo parlando degli Stati Uniti d'America quindi insomma non parliamo di una nazione dove la tecnologia non è il punto cardine e questo secondo me non è grave, è gravissimo è gravissimo che persone sopra i 60 anni e non voglio dire niente contro le persone sopra i 60 anni assolutamente ma persone che sono sopra i 60 anni quindi già permettetemi però di dire che magari una certa fatica a capire queste innovazioni tecnologiche perché magari non fanno parte di questo settore e quindi quando si è grandi di età è sempre più difficile cercare di capire un mondo che è sempre più lontano e lo dico ragazzi guardate confrontandomi con il mio cuginetto di 14 anni che quando prende in mano il cellulare va praticamente ad una velocità supersonica e basta che gli faccia vedere le cose una volta e lui le sa fare, replicare non solo, un'ora dopo trova qualcosa che io non sapevo fare quindi di questo tipo di velocità tecnologica parlo quindi persone che hanno quell'età, che non hanno per niente conoscenza di questo settore parlino del futuro di questo settore questa è la vera assurdità e soprattutto il fatto che ancora c'è stata una metafora che mi è veramente rimasta impressa usata da questo personaggio che praticamente ha detto è come se noi rendessimo legale l'introduzione e la vendita quindi l'uso di armi e negli Stati Uniti le armi le possiamo utilizzare ma il cui materiale non permetterebbe di identificare il DNA o le fingerprints, non mi viene in italiano aiutatemi e quindi vendessimo armi che non lasciano traccia della propria identità bene, voi, secondo voi da chi potrebbero essere utilizzate queste armi? dai criminali? c'è stata, ha fatto questa metafora che secondo me ragazzi è una metafora così assurda e che denuncia una così profonda non conoscenza di questo mercato e del settore e che è allucinante, è spaventosa veramente non ho le parole per descriverla per questo voglio lasciarvi il video uno spezzone del video ve lo voglio lasciare qua sul canale alla fine so che è in inglese so che per alcuni di voi è difficile ma vi consiglio di mettere i sottotitoli perché va veramente vista un'altra cosa che ha detto iniziando il proprio discorso è denunciare come le criptovalute secondo questa persona possano compromettere la valuta fiat e quindi gli aspetti su cui è costruita l'economia e la finanza negli Stati Uniti quindi una sorta di protezionismo quindi cerchiamo di tracciare una linea tra il bene e il male le fiat e le banche sono il bene le criptovalute sono il male molto binario è stato questo discorso senza ovviamente avere la possibilità e c'era un altro personaggio che in questo hearings cercava di dar contro ma ovviamente non aveva gli strumenti non aveva le conoscenze per poter dire a questa persona stai dicendo delle incredibili stupidaggini ragazzi scusate volevo sfogarmi con voi riguardo quello che ho sentito con le mie orecchie ieri in diretta streaming volevo condividerlo qui sul canale sarei molto curioso di sentire che cosa ne pensate voi vedo di agganciare a questo video il video originale almeno il pezzo che più mi interessa voi sentiate, ascoltiate lasciatemi un commento e ditemi come la pensate voi ragazzi ci vediamo prestissimo buon trading a tutti e lungo futuro al mondo delle criptovalute ciao Mr. Sherman for opening statement two and a half minutes blockchain is a good technology but it can be used to track and transfer sovereign currency there is nothing that can be done with crypto currency that cannot be done with sovereign currency that is meritorious and helpful to society the role of the U.S. dollar in the international financial system is a critical component of U.S. power it brought Iran to the negotiating table and then we argue about whether we got a good enough deal or not in the JCPOA we would have nothing had it not been for the role of the dollar we should prohibit U.S. persons from buying or mining cryptocurrencies mining alone uses electricity which takes away from other needs and or adds to the carbon footprint as a store as a medium of exchange cryptocurrency accomplishes nothing except facilitating narcotics trafficking terrorism and tax evasion some of its supporters delight in that that if you can disempower the U.S. government from being able to prevent terrorism narcotics trafficking and tax evasion you have somehow struck a blow for liberty that is reason enough to ban it but its role as an investment is at least as bad we have certain animal spirits in our culture a willingness to take a risk to place a bet this can be harnessed by gambling casinos which at least pay very high local taxes and created a city of Las Vegas out of a desert we can better yet harness those animal spirits to get people to invest in risky stocks start up enterprises and provide the technologies and jobs of the future or we can see those animal spirits spent doing nothing but helping create a market for tax evaders narco terrorists and others who find that the U.S. dollar is not to their liking at a very minimum we need investor protection if we're going to have people invest in cryptocurrencies and crypto offering memoranda and crypto registrations would be considered outright fraud and reason for incarceration if they were issued by somebody selling stocks, bonds or any other investment and finally there is seniorage the money that we make as a country because we're the reserve currency because we can issue a greenback that does not yield interest there are people who are alive today because of the profits the U.S. government makes on that whether it be to fund defense or medical research all of that gets diminished with cryptocurrency I yield back